Salusa 7 maggio 2012. Pochi di voi hanno precise reminiscenze delle esistenze precedenti tranne, forse, qualche ricordo improvviso e sporadico, anche se ognuno ha vissuto numerose vite piene di esperienze, che vi hanno fatto diventare quel che oggi siete. Il percorso è stato lungo e molti di voi oggi sono alla soglia dell'ascensione, ma non riuscite ancora a comprendere appieno quale enorme balzo in avanti sta per compiersi. Siate pazienti, carissimi, sapendo che fate parte di chi è stato scelto per essere presente in questo momento particolare, e che si tratta veramente di un grande privilegio e di un'esperienza, che mai sarà dimenticata. Anche se nella dualità l'evoluzione è parecchio più rapida, paradossalmente voi la vedete come un processo molto lento. Non di meno, in questa specifica esistenza, tutto è stato accelerato e, soltanto di recente, alcuni si stanno svegliando alla rapida crescita del loro livello di coscienza. Questo è in verità l'unico scopo per cui siete venuti, sapendo che, in un certo, qual modo, la fine dei tempi sarebbe stata entusiasmante e del tutto gratificante. di conseguenza, quando il gioco si fa duro, vi chiediamo di vederne solo il lato positivo, sapendo che si tratta soltanto di una fase passeggera. Siete sulla soglia dell'era dell'oro e, una volta entrati, tutto quello che l'ha preceduta, vi sembrerà irrilevante e sarà presto dimenticato. Avete tutti completato il percorso più difficile, e adesso quel che resta è di fare pulizia e, con il nostro aiuto, si produrrà rapidamente. State per diventare i paladini dell'amore e della pace, e molte civiltà minori, meno esperte, si affideranno alla vostra guida. La vita esiste ovunque e mai sarà possibile pretendere di averla conosciuta tutta, perché senza posa il creatore manifesta nuove creazioni. Iniziate ora a pensare in termini di pace, a manifestare la pace ovunque siate, senza lasciarvi distrarre da agenti esterni. Potete riuscirci e scoprirete che diventa facile mantenere tale capacità, a prescindere da quanto accade attorno a voi, finirà per diventare un modo di essere, grazie al quale potrete mantenervi sempre sereni, nella piena comprensione dell'unità di cui siete. Sarete in grado di liberarvi del superfluo, lasciando Dio vivere in voi, e la vostra vita assumerà un nuovo significato. Farete anche parte di coloro che innalzano tutti gli altri, i quali seguendo il vostro esempio, cercheranno la stessa via. Malgrado il lavoro da noi svolto dietro le quinte già da moltissimo tempo, spetta a voi gran parte del merito dei progressi realizzati di recente, avendo esercitato il vostro libero arbitrio per sostituire il vecchio modello di limitazioni e controlli con quello che vi sta facendo ritornare ad una società libera, in cui scegliere il vostro futuro. Questo ci ha consentito di lavorare a vostro fianco, poiché avete invocato il nostro aiuto per liberarvi da chi vi aveva privato dei vostri diritti. Siate certi, che tornerete a essere ancora una volta del tutto liberi, e che i torti subiti saranno riparati. In verità, guadagnerete molto più di quanto avevate prima, perché state per ricevere i benefici di tecnologie avanzate, che vi prepareranno per l'ascensione. Ancora una volta teniamo a precisare che non avete nulla da temere riguardo a beni personali e patrimoni, perché si terrà conto di ogni vostra necessità. Di fatto, molti saranno più felici in una società più unita e diventata una, in cui tutti condividono i vantaggi offerti. Sarete in grado di dedicare il vostro tempo a quanto corrisponde ai vostri desideri, essendo assolutamente liberi nella scelta delle vostre occupazioni. Sarete incoraggiati a sviluppare comunità, che scelgono il proprio modo di servizio reciproco, e l'elevato livello di coscienza farà emergere il meglio delle qualità personali. Stiamo lavorando ad alto livello per convincere gli oscuri finalmente a ritirarsi, consentendoci di aiutarvi a ristrutturare la vostra società, senza interferenze da parte loro. Andremo avanti, con o senza la loro collaborazione, nel demolire gli ultimi bastioni delle persone del loro potere che, comunque, si sta sfaldando e disgregando, mentre nei loro ranghi regna la discordia. Presto, li spazzeremo via lasciandoli al destino, che meritano, insieme con tutto quello che non ha posto nella New Age. Come vi abbiamo già detto in passato, noi apparteniamo al vostro futuro e non ci separeremo dopo l'ascensione, ma parteciperemo ancor più con voi agli ulteriori cambiamenti, che proseguiranno fin quando diventerete esseri pienamente consapevoli. Allora saremo uno, diventerete membri al pieno titolo della Federazione Galattica e, se lo desiderate, sarete invitati a unirvi a noi. Ricordatevi che nella Federazione sono rappresentate numerose civiltà ascese, e scoprirete che la vostra famiglia stellare ne fa già parte. La vostra esistenza sarà quanto mai appassionante, senza quasi alcun limite a quel che potete fare, e diventerà sempre più soddisfacente, realizzando i vostri sogni più folli. Il lavoro o la fatica a quali ora siete abituati, non saranno più un pesante carico, bensì scoprirete che la vita può rivelarsi molto facile e piacevole. Mai foste condannati da Dio a un'esistenza, che di continuo vi obbligava a fronteggiare situazioni spiacevoli. Questo, carissimi, è stato il risultato delle vostre proprie creazioni. Non di meno, tutto ciò ormai appartiene quasi al passato, e osserviamo che molti di voi sono già in grado di elevarsi al di sopra delle vibrazioni inferiori. La dualità è stata un'insegnante molto molto severa, che vi ha portato a sperimentare la solitudine della separazione dalla sorgente. Adesso, cominciate a riconoscere l'unità di tutto ciò che esiste e avete trovato Dio dentro voi stessi, imparando anche a riconoscerlo negli altri. Guardatevi e poi guardateci apparentemente, tra noi c'è una grande differenza, che tuttavia è ben piccola, perché dovuta al fatto che noi abbiamo già raggiunto il livello di coscienza, cui presto anche voi giungerete. Ci fu un tempo, nel lontano passato, in cui foste uguali a noi, ma poi decideste di sprofondare nelle vibrazioni inferiori per sperimentarne appieno le sfide. Di conseguenza, conoscete già bene le vibrazioni superiori e, per tal motivo, accoglierete volentieri i cambiamenti in arrivo. Quel che sta per accadere ora sulla Terra è solo l'inizio e, se osservate attentamente, noterete che stanno prendendo forma gli eventi, che porteranno al gran finale. Nessuno vi priverà dello spettacolo di vedere i capi degli Illuminati tradotti in giustizia i piani sono pronti e i nostri alleati dispongono dei mezzi per procedere. Attendete ancora un poco e potrete godervi gli ultimi giorni di chi ha abusato della vostra società. Io sono il Siriano Salusa e percepisco la gioia, che sta crescendo tra voi nel vedere la prova dei progressi da noi compiuti. Tutto finirà come vi abbiamo da tempo illustrato. Infatti, chi tra voi mortali sarebbe in grado di sfidare la parola di Dio? Insieme a numerose altre fonti, vi stiamo inviando immense quantità di amore, che vi propulseranno verso la vittoria. Grazie, Salusa. Mike Quincy traduzione Costanza 2003